Il cielo sopra Napoli è grigio nel day after della sfida contro la Juve Stabia, ma se il tempo volge al nuvoloso è sereno l'animo dei Rosanero che questa mattina sono tornati al lavoro con il sorriso dopo aver battuto per 3-0 ieri sera la Juve Stabia, dato un segnale di forza al campionato e soprattutto allungato sulle dirette pretendenti per un posto al prossimo campionato di Serie A. La parola d'ordine però è tranquillità e soprattutto concentrazione, il traguardo è ancora lontano e per questo stamattina come dicevamo la squadra è già subito al lavoro in un campo della periferia di Napoli per preparare la sfida di sabato a Renzo Barbera contro il Brescia. Rientrerà l'Afferti squalificato mentre saranno da valutare le condizioni di Hernandez, lavoro a parte invece questa mattina per Mugnoz, ieri è uscito anzitempo per una botta ad una coscia, ha abbandonato il terreno di gioco a fine primo tempo al suo posto entrato Milan-Milanovic. La squadra come dicevamo rientrerà in città oggi pomeriggio e ha parlato per noi Franco Vasquez che ieri ha sigillato la sfida contro i campani, è stato tra i migliori in campo allo stadio Menti e allora andiamo ad ascoltare le parole del Mudo. Ho fatto una bella partita a tutti, l'importante era vincere per continuare avanti, adesso vogliamo continuare così e il sabato c'è una partita difficile contro il Brescia. Ci vuoi raccontare la gioia per il primo gol in maglia rosa nero, peraltro è una perla, è un gol bellissimo. Sì, è un bel gol, anche Paolo me l'ha dato bene sul sinistro, ho calciato e per forza è entrato e ha fatto un bel gol. Facciamo finta che mister Iachini non ci sente, meglio Vasquez-Mezala o meglio Vasquez lì vicino a uno o due attaccanti? Io mi trovo meglio avanti perché in Argentina ho giocato sempre lì e sempre ho giocato lì, però mi piace pure giocare di Mezala dove il mister mi chiede e io posso aiutare. Più 7 dall'Empoli, più 8 dalla terza, la parola d'ordine però è rimanere tranquilli perché comunque il traguardo è lontano, sei d'accordo? Sì, manca tanto, ancora dobbiamo pensare partita a partita, adesso arriva Brescia che c'è una bella squadra, ancora dobbiamo continuare così e vincere il sabato con i nostri tifosi.